Una pallina per Tommy per raccogliere fondi da destinare all'ambulatorio di primo soccorso e acquistare presidi medici. È questa l'iniziativa che i genitori di Tommaso hanno lanciato per raccogliere fondi da destinare alla nuova sede della Croce Rossa Italiana. Le palline potranno essere acquistate presso la sede dell'Associazione Ollus Chiocciola Tommy 125 in via provinciale ad Ogliastromarina, nel periodo natalizio nelle principali piazze del Cilento, oppure ordinate direttamente a Carmine Gorga, telefonando al numero 379 26 59 772, che provvederà a spedirle. Inoltre sarà possibile acquistare le palline in diverse attività commerciali di Castellabate che hanno aderito all'iniziativa. Purtroppo la Croce Rossa non ha un proprio economato, quindi non ha delle entrate. Il sostentamento è grazie alle donazioni e alle attività. Quindi tutto il regavato verrà usato per acquistare i presidi da utilizzare in questa sede. Verranno create delle giornate di prevenzione, quindi i genitori di Tommaso hanno voluto fermamente queste iniziative. Quindi verranno create screening, giornate di prevenzione, ci saranno dei medici che in modo gratuito presideranno la sede e quindi avremo un punto di riferimento per tutta la comunità.